Ciao ragazzi e ragazze, oggi è un giorno speciale perché oggi è il mio compleanno. Vado a pranzo fuori e ho scelto un abito un po' cortino, però voglio festeggiare e io mi sento bene vestita così. E sentirti bene un vestito è più importante di tutto. Ho i tacchi 14 come il mio solito che li adoro e quindi un capottino bianco e andrò con il mio compagno a pranzare fuori. Ma prima di questo volevo fare un brindisi con voi. Vi ringrazio veramente di cuore tutti i messaggi che mi sono arrivati. Sono tantissimi su Facebook, su Instagram, anche sul gruppo Community Stella Marina dove ho trovato veramente un gruppo che mi adora e io adoro voi. E vorrei brindare e ringraziarvi allora perché mi seguite. Questo canale è per voi, per darvi consigli e senza di voi non ne potrebbe esistere. Voglio ringraziare anche in inglese i miei parenti e conoscenti. Questo non si fa, mi piace, ho io chi va a fare, vi sono chi va a fare, mi piace e mi piace, e anche in rumeno. Grazie per l'attenzione, vado a pranzo, ci vediamo in prossimo video. E tante augurie a mea! Salute ragazzi! Grazie!